Quinto festival della Cistecca Montese ai tempi del coronavirus. Sarà un festival diverso perché si svolgerà indoor allo slogan di Stanti Mauniti. Abbiamo ben appunto cinque locali che svolgeranno questo divertente e gustosissimo festival, in particolare Sunrise, Il Furgone, Happy Hour, Dreamview e Gotha. Il festival della Cistecca Montese si svolgerà dal 22 al 25 giugno 2020 in questi locali. Ora noi andremo a parlare con i singoli protagonisti dei locali che partecipano a questo festival, organizzato come sempre dal consorzio della Cistecca Montese e quindi ascoltiamo i protagonisti. Con Patrizia del Gotha, allora in particolare vogliamo sapere quanto costa il menù e cosa comprende? Allora il menù costa 12 euro e comprende la porzione di patatine, il panino ovviamente con la cistecca, che sarà quella classica con l'insalata o ognuno dei pub presenterà un new entry, un panino particolare creato apposta per questo festival e incluso in questo menù ci sarà anche la bibita, a soli 12 euro, ripeto. Patrizia, tu volevi sottolineare una cosa importante, che appunto questo festival si svolgerà indoor, quindi che vuol dire? che ognuno dei locali svolgerà il festival, quindi per causa del coronavirus non ci saranno assembramenti e quindi ognuno gestirà nei propri locali questo festival, quindi distanti ma uniti. Con viaggio scotto del furgone, allora il furgone è sempre all'avanguardia con queste special edition della cistecca, per quest'anno cosa ci proponete? Quest'anno facciamo questo panino special edition per il festival della cistecca, come abbiamo già detto, versione indoor, cioè che ognuno svolge nel proprio locale. Ho pensato di fare un panino con la cistecca, poi ho messo della sottiletta gialla cheddar, del bacon, delle patatine e delle anelli di cipolla e l'ho chiamato l'americano, perché lo volevo proprio dedicare a tutti i nostri clienti americani e a tutti i montesi americani che come ben sappiamo quest'anno morti di loro non possono venire. Con Danilo Caranlante, presidente del consorzio della cistecca montese, allora una quinta edizione speciale, indoor particolare, però l'importante è esserci. Sì, salve, buonasera. Sì, l'importante, come hai detto tu, è esserci. Infatti quest'anno, ecco, l'abbiamo chiamato proprio indoor, proprio per la situazione, diciamo che sappiamo tutti, per coronavirus, quindi non potevamo fare il festival per non creare l'assemblemento, abbiamo deciso insieme a tutti i consorziati di farlo proprio nei rossi locali e quindi chiamarlo proprio indoor, festival indoor. E ognuno di noi ha proposto un panino come sempre ogni anno. Il nostro panino, quello che propone il Piavas, è con la cistecca, sottiletta, carciofini, capocollo di Martina Franca, rucola e noci sgusciate. E niente, poi vicino ci mettiamo una porzione di patatine e una bibita, una birra, un menù di 12 euro, come facciamo di soldi al festival. Chi vuole venire al nostro locale, quella giornata, può aderire a prendere questo panino qua insieme a tutto il menù completo. Con Nicola Coppola del Dreamview, allora, voi invece ci volete far stare sulle spine, perché il panino lo svelerete proprio nel fine settimana. Innanzitutto buonasera a tutti, come ogni anno anche noi del Dreamview partecipiamo a questo festival della cistecca montese, ormai una vera e propria tradizione del paese. Diciamo, sì, quest'anno noi stiamo tenendo un po' sulle spine tutti i nostri clienti e il panino lo sveleremo tra domani e dopodomani sui nostri canali social. Sicuramente sarà con la cistecca, ovviamente. Ricordo a tutti i clienti e non che si svolgerà indoor, cioè ogni locale presenterà il panino all'interno del locale stesso. Vi aspettiamo e venite ad assaggiare le specialità di Monte di Procida. Con Davide Di Meo del Sunrise, un nuovo panino da presentare dal 22 al 25 giugno. Sì, buonasera. Allora, come ogni anno il Sunrise trae ispirazione dal territorio. Anche quest'anno comunque presenteremo questa cistecca che l'abbiamo chiamata Baia, cioè ispirandosi al labbero di figo che cresce rigoriosamente nel Tempio di Mercurio, anche se sotto alla rovescia comunque continua a crescere. E quindi insieme ai fichi metteremo prosciutto crudo e pecorino. Quindi faremo questo nuovo panino. Come l'anno scorso lo chiamammo Flegraios, sempre ispirandoci a tutto il territorio, anche quest'anno ci rifaremo. Dal Belvedere Stupor Mundi è davvero tutto. Noi vi diamo appuntamento al Festival della Cistecca Montese Indoor dal 22 al 25 giugno 2020. Ciao!